Buonasera, benvenuti a tutti a questo terzo appuntamento di Accademia dei Seminativi, una serie di webinar organizzati da Corteva in collaborazione con l'informatore agrario, durante i quali abbiamo affrontato una serie di tematiche legate alla difesa e alle agrotecniche più innovative per i seminativi appunto. L'episodio, la puntata di oggi è dedicata alla soia e avremo modo di trattare diversi argomenti, parleremo sicuramente delle novità della nuova PAC, ma non solo, ci concentreremo anche sugli aspetti di mercato, su quelle che sono le prospettive per questa cultura, alla vigilia in realtà delle semine, e avremo modo di approfondire in modo molto accurato invece la tematica del diserbo, che chiaramente per la soia è assolutamente importante ed è sicuramente uno dei passi fondamentali per arrivare poi a una resa e una produttività e una qualità della cultura soddisfacente da un punto di vista economico. Passo a presentarvi gli ospiti di questo pomeriggio, abbiamo Antonio Papaleo del CREA, Centro di Politiche e Bioeconomie di Roma, buonasera Antonio. Buonasera Lorenzo, grazie. Abbiamo Giulio Loregian, Category Marketing Manager Oleaginoso e Frumento per Corteva AgriScience, buonasera Giulio. Buonasera. Abbiamo Elisa Mascanzoni, Principal Biologist per Corteva AgriScience, buonasera Elisa. Buonasera a tutti. E Mirko Guarise, Product Manager Herbicide per Corteva AgriScience, buonasera Mirko. Buonasera a tutti. Allora, cosa possiamo dire per introdurre le varie cose che diremo questa sera? Allora, sicuramente la soia tra i seminativi di prossima semina per l'appunto, è una delle culture più attenzionate al mondo agricolo. Vuoi, perché da una parte abbiamo sicuramente delle buone quotazioni, la Borsa Granaria di Milano ha chiuso proprio ieri le quotazioni della soia nazionale a una cifra ragguardevole, perché siamo attorno ai 69 Euro quintale, quindi sicuramente una quotazione molto interessante, e vuoi anche perché chiaramente è da sempre una cultura per la quale il nostro Paese è deficitario. Sappiamo che ogni anno, mediamente, l'import di soia, necessario più chiaramente alla filiera, principalmente alla filiera zootecnica, è sempre molto elevato. Siamo comunque, diciamo, a un livello di auto per il ragionamento che è sempre del 40-45 volte anche di più per cento per annata commerciale. Quindi, chiaramente, di spazio, diciamo così, per la coltivazione della soia e di necessità per le filiere, ecco, di soia italiana ce n'è, ce n'è molto. È fondamentale però, ed è appunto uno degli obiettivi del webinar di oggi pomeriggio, inquadrare bene quelle che sono le opportunità per questa cultura, ma anche le possibili criticità, perché quando si conoscono entrambe si riesce a fare anche una programmazione più attenta e si riesce a ottenere un risultato migliore dal punto di vista proprio del reddito. Allora, tra le opportunità e anche le criticità, chiaramente, la nuova PAC ne rappresenta sia l'una che l'altra parte. Con Antonio Papaleo affronteremo adesso quello che è stato il processo per la definizione del PSN, il Piano Strategico Nazionale, e ci focalizzeremo sulle principali novità della nuova PAC, tra cui, chiaramente, ne avrete sicuramente già sentito parlare, gli ecoschemi rappresentano la novità principale e anche uno degli aspetti su cui maggiormente bisogna fare chiarezza. Ma ce ne parlerà sicuramente meglio Antonio, a cui lascio la parola. Prego, Antonio. Grazie, Lorenzo. Allora, come accennavi tu, la mia presentazione riguarderà quella di cercare di delineare un quadro di quella che sarà la nuova PAC che partirà dal primo gennaio del 2023. Quindi, diciamo, la PAC che ci accingeremo ad affrontare è il risultato di una riforma che ha avuto un lungo percorso nella sua definizione, un percorso che ha visto diversi momenti di rallentamento, alcune battute di arresto dovute sostanzialmente a questioni prettamente politiche e istituzionali, senza stare troppo a menzionare la problematica che tutti conosciamo della pandemia da Covid-19. Insomma, questi rallentamenti hanno portato alla necessità di avviare un periodo di transizione, che è quello che stiamo vivendo fino al 31 dicembre di quest'anno, della PAC di due anni. Un percorso di riforma della PAC che ha percorso già avviato, ha dovuto fare fronte a quelle che sono state i nuovi temi e le nuove sfide che da parte dell'Unione Europea sono intercorse proprio in un percorso che era in via di definizione, mi riferisco alle sfide lanciate nel 2019, a dicembre del 2019, dalla strategia del Green Deal e poi nel successivo 2020, dalle due strategie che lo compongono e che riguardano il settore agricolo e agroalimentare in generale dell'Unione Europea, che è la strategia Farm to Fork e la strategia Biodiversità 2030. Ecco, la PAC nasce come una politica settoriale ma nei vari decenni abbiamo osservato sempre un suo più stringente inverdimento e in questa nuova definizione della PAC, questo inverdimento pone sempre più l'asticella, sempre più in alto rispetto alle ambizioni ambientali. Ecco, una PAC più che altro un'agricoltura che si trova oggi a rispondere a strategie globali per quanto riguarda l'Unione Europea, in particolare una richiesta sempre di sviluppo, sempre più green, quindi una PAC che è chiamata ed è uno strumento chiave per garantire nell'ambito della strategia, in questo caso del Green Deal, garantire una transizione verso una sostenibilità ambientale e climatica di tutto il sistema alimentare dell'Unione Europea. Le prime bozze legislative della PAC che partirà 1 gennaio 2023, sappiamo, sono state introdotte a giugno del 2018. Da giugno del 2018 ad oggi, come ho detto prima, sono intervenuti diversi fattori, ma l'impalcatura generale progettata dalla Commissione è rimasta inalterata, si è rafforzata nei suoi obiettivi da perseguire, obiettivi che rappresentano nove obiettivi specifici, incardinati nei tre ambiti della sostenibilità, quella economica, sociale ed ambientale, obiettivi che nel nuovo percorso devono essere raggiunti attraverso la definizione di un piano strategico nazionale, un piano strategico unico che coinvolge sia il primo che il secondo pilastro della PAC, un piano strategico che ogni Stato membro deve elaborare concentrando la sua definizione attraverso un obiettivo orientato al risultato. Questa è una delle principali novità di questa riforma. Quindi, come si diceva, un'unica programmazione strategica tra tutti e due i pilastri della PAC attraverso il piano strategico nazionale, un piano strategico che è focalizzato sul raggiungimento dei risultati, quindi un piano strategico della PAC che deve quantificare gli obiettivi da raggiungere e che sposta in particolare l'obiettivo dal come si raggiungono gli obiettivi a cosa si è raggiunto attraverso la realizzazione della spesa. Questo un po' modifica, tra virgolette, quella che è la valutazione di questa politica che passa da una conformità agli impegni a una valutazione dei risultati e delle prestazioni che ha perseguito. Dicevo prima una PAC sempre più verde e che è sempre più al centro dell'attenzione di politica e più di carattere orizzontale. Quindi una strategia, quella della PAC 23-27 e del futuro, che sarà valutata anche per il contributo e la coerenza sulle altre strategie perseguite dall'Unione Europea. Quindi una PAC che alza l'asticella della sua ambizione ambientale. Uno degli elementi di questa ambizione ambientale lo possiamo vedere in un'architettura verde che è strategica e sinergica per tutti e due i pilastri della PAC, un'architettura verde che fa parte della strategia della politica agricola. Una PAC che vede una condizionalità, un concetto di condizionalità rafforzata, una condizionalità ambientale che riprende la condizionalità ambientale a cui oggi i nostri agricoltori sono sottoposti e li amplifica, li modifica alcuni concetti e restringe a volte anche il campo di applicazione attraverso vincoli più stringenti. Poi una delle novità sono i regimi ecologici sul primo pilastro, proprio per rispondere alle sfide lanciate dal Green Deal e dalle due strategie, Farm to Fork e Biodiversità. Assistiamo ad una politica agricola sempre più blindata, in questo senso attorno ai temi ACA dal punto di vista finanziario, come il 25% delle risorse del plafon del primo pilastro deve essere destinato agli ecoschemi e così anche il 35% delle risorse del secondo pilastro a tutti quegli interventi di carattere climatico e ambientale. Poi una PAC che punta a non perdere ciò che ha realizzato nel passato attraverso la non regressione della spesa per quanto attiene alle tematiche climatiche e ambientali. Poi infine possiamo introdurre un concetto molto innovativo e un concetto per la prima volta nuovo in assoluto che è quello della condizionalità sociale. La nuova PAC dovrà prevedere impegni nel rispetto di tutte quelle norme e regole sia a livello europeo che nazionale per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'occupazione nel settore agricolo. Dicevamo prima uno degli elementi nuovi della nuova PAC in questo processo di invertimento è l'architettura verde. Un'architettura verde che si compone di tre elementi che sono distinti tra di loro ma sinergici e complementari. Un primo elemento è la nuova condizionalità ambientale rafforzata. Nuova perché vengono introdotti queste nuove regole di condizionalità. Impegni per esempio viene ripreso il greening e ingolbato nella condizionalità. Quindi il greening, quello che oggi conosciamo con i greening e gli obblighi del greening scompaiono dal pagamento ma lo ritroviamo sotto forma di impegni a cui gli agricoltori devono sottostare per poter accedere alle premialità derivanti dalla politica. Poi un secondo elemento sono i regimi ecologici, gli ecoschemi che fanno parte dei pagamenti diretti e poi le misure del secondo pilastro, quindi le misure agroclimatiche ambientali, le misure forestali, gli investimenti e così via. Parlavamo di condizionalità, una condizionalità rafforzata che appunto rappresenta una condizione d'accesso per poter accedere ai pagamenti del primo pilastro, in particolare i pagamenti diretti. Anche il pagamento di base cambia nome, al posto di pagamento di base diventa sostegno di base per la sostenibilità ambientale. Poi un livello da superare per i nostri agricoltori per poter accedere alle misure secondo gli interventi, quelli del secondo pilastro, le misure a superficie o a UB, è inoltre da superare anche per poter accedere a quelli che sono gli interventi dedicati nel primo pilastro attraverso gli ecoschemi. Quindi una condizionalità come possiamo vedere che presenta diversi punti di rafforzamento, una condizionalità che ampia gli impegni di base e a volte anche più stringenti, una condizionalità che introduce nuovi elementi a volte. Per esempio qui riporto quella che è la buona pratica 7 della condizionalità che riguarda la rotazione delle colture nei seminativi, che di fatto riprende quello che era l'impegno del greening sulla diversificazione, ma lo trasforma in un obbligo di rotazione. Questo avrà il sicuro effetto di cancellare quella che è una delle pratiche più conosciute e che su molte delle nostre agricolture attuano, che è la monosuccessione. Poi parlavamo prima degli ecoschemi come novità. Gli ecoschemi rappresentano una novità nel panorama della politica agricola. La Commissione ha puntato e ha focalizzato tantissimo l'attenzione su queste pratiche, ha realizzato tutta una serie di documenti di orientamento, proprio perché agli ecoschemi rappresentano uno degli elementi fondamentali per poter raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal, oltre a quelli obiettivi ambientali e climatici derivanti dalla politica agricola stessa. In questa slide voglio focalizzarmi semplicemente sull'ambizione degli ecoschemi e su come gli ecoschemi possono elevare l'ambizione ambientale, mettendo a rapporto le superfici attualmente e i beneficiari attualmente in Italia del secondo pilastro che accedono a misure benefiche per il clima e l'ambiente, con le superfici e il numero dei beneficiari che attualmente sono sottoposti a condizionalità. Ecco, il compito degli ecoschemi è quello di alzare di più l'asticella verso un maggior impegno ambientale. Come dicevo prima, ci troviamo in una fase in cui l'Italia, insieme ad altri paesi, ha notificato alla Commissione il 31 dicembre scorso il suo piano strategico nazionale per la PAC del periodo 23-27, un piano strategico che è il risultato di un lungo percorso di lavoro e di condivisione con il partenariato, ma anche con le autorità di gestione e soprattutto in primis autorità di gestione del MIPAF, delle regioni e delle province autonome. Un piano strategico che è partito dal fare un'analisi della situazione attuale e poi fare un'analisi SWOT per evidenziare i punti di forza, i punti di debolezza e quindi enucleare quelle che sono i fabbisogni e le esigenze di tutto il sistema agricolo italiano il sistema agricolo italiano alla luce degli obiettivi che questa politica pone fino ad effettuare un esercizio di prioritizzazione delle esigenze a livello territoriale e quindi arrivare a definire quelli che sono gli interventi che poi sono stati inseriti all'interno del piano strategico nazionale. Un piano strategico nazionale notificato ma non chiuso, perché ovviamente c'è bisogno ancora, adesso al 31 di marzo di questo mese è la data in cui ci si aspettano le prime osservazioni dalla parte della Commissione europea in cui si avvierà un tavolo di concertazione per poter migliorare nelle sue parti in cui si ritiene che non possono essere migliorate del piano strategico. Quali sono, cosa c'è dentro il piano strategico? Innanzitutto partiamo dal primo pilastro e partiamo dal nuovo regime dei pagamenti diretti. Nella passata programmazione, ovvero quella in corso, i pagamenti diretti erano focalizzati su cinque elementi più uno che era quello sui piccoli agricoltori. In questa programmazione i pagamenti diretti sono sempre indirizzati su cinque componenti, uno è il pagamento di base che sarebbe il sostegno per la sostenibilità, e sostegno di base per la sostenibilità ambientale che assorbe circa il 48% del plafon nazionale dedicato ai pagamenti diretti, poi un 25% dedicato agli ecoschemi, un 10% chiedo scusa dedicato ai pagamenti redistributivi, un 2% per i giovani agricoltori e infine un 15% per i pagamenti accoppiati. Ma al di là di tutto i processi che si dovranno avere a partire dal 2023, quella di un ricalcolo dei titoli, poi c'è tutto il discorso della convergenza interna, quindi alcuni titoli subiranno una riduzione, quelli ovviamente che hanno un portafoglio più grande, mentre quelli che hanno un portafoglio più piccolo verranno alzati di modo che si possa arrivare al 2026 che tutti i titoli italiani stiano intorno all'85% della media italiana. Ciò su cui mi voglio soffermare è invece il box che vediamo sulla destra, dove si evince che in virtù di questa nuova condizionalità, dove il greening ad esempio rientra, diventa obbligatorio come impegno da rispettare ma non è più un pagamento, i nostri agricoltori sono certi rispetto al passato di ricevere soltanto il 48% dei pagamenti diretti previsti dal plofon nazionale, mentre invece nel passato fino al 31 dicembre di quest'anno questa percentuale era intorno all'85% perché si andava a sommare il 55% del sostegno di base più il 30% del greening. Questo ovviamente i nostri agricoltori potranno, per quanto attiene ai pagamenti diretti, potranno accedere anche alle altre componenti dei pagamenti diretti, però sicuramente una delle, diciamo, dei punti se vogliamo dire un po' negativi dal punto di vista economico lo possiamo già vedere in questo. Ora, come sono composte le altre poste della nuova PAC previsto nel piano strategico 23-27? Abbiamo sempre gli interventi dedicati, gli interventi settoriali con la new entri del settore dedicato alle patate e poi abbiamo la politica dello sviluppo rurale nel secondo pilastro dove ci sono gli interventi che conosciamo dagli agroclimatici agli interventi forestali, gli investimenti, i giovani e anche la gestione del rischio che è la gestione del rischio, diciamo, adottata a livello nazionale. Ora, dicevamo prima degli ecoschemi e l'importanza degli ecoschemi. Tra tutte le possibilità che la Commissione aveva, diciamo, suggerito e così via, il nostro piano strategico nazionale si è orientato verso l'attuazione di cinque ecoschemi. Ricordiamo che gli ecoschemi sono delle pratiche che devono andare oltre la condizionalità di base e che devono essere diversi, gli impegni previsti dagli ecoschemi devono essere diversi da quelli presenti negli interventi agroclimatici e ambientali del secondo pilastro. Un primo ecoschema riguarda il settore zootecnico, in particolare un ecoschema suddiviso su due livelli di impegni, uno che porta alla riduzione nell'utilizzo degli antibiotici e uno per il benessere degli animali per quanto attiene un impegno al poscolamento o all'allevamento semibrato. Un secondo ecoschema progettato riguarda l'inerbimento delle culture arborre, un inerbimento da effettuare nell'interfila. Un terzo ecoschema è dedicato alla salvaguardia degli olivetti di particolare valore storico e paesaggistico del nostro territorio. Un quarto ecoschema è più focalizzato verso i sistemi foraggeri estensivi che prevede la coltivazione anche di colture foraggere, ma anche leguminoso, anche colture da rinnovo. E poi un quinto ecoschema che è indirizzato verso favorire l'attività degli impellinatori e che riguarda sia le superfici asseminativo sia le superfici a borre, sulle quali è prevista l'adozione di colture mellifere pollonifere. Ora, per quanto attiene invece allo sviluppo rurale, quello che è il secondo pilastro, nel PSP sono stati progettati un totale di 76 interventi nazionali con un dettaglio regionale. Ecco, il dettaglio regionale deve essere ancora definito per molti di questi interventi e qui, riallacciandomi a quello che dicevo prima, il piano strategico nazionale non è chiuso nonostante sia notificato. Di questi 76 interventi, 31 di questi riguardano le tematiche agroclimatiche ambientali. Tra questi interventi agroclimatiche ambientali sono tutti interventi a superficie o a UBAL, sono tutti interventi che provengono, alcuni provengono dai PSR attuali, altri riprendono quelli che erano singoli impegni nei PSR attuali e sono stati trattati come singoli interventi proprio per dare continuità al lavoro della politica che si è fatto in questi anni a livello regionale, mentre invece altri interventi sono stati progettati ex novo, come per esempio un intervento dedicato all'agricoltura di precisione per quanto attiene proprio la gestione di fertilizzanti, la gestione dell'acqua, la gestione dei fitofarmaci. Quindi chiudo dicendo che con la notifica del piano strategico nazionale alla Commissione il lavoro non è finito. Nel frattempo si sta facendo un lavoro di valutazione degli interventi sia in maniera inserita nel PSP, sia in maniera orizzontale che trasversale. Il MIPAF insieme alle regioni province autonome, alla rete rurale nazionale che supporta questo lavoro, sta predisponendo dei tavoli di lavoro proprio per l'affinamento sia del testo che degli interventi che sono stati inseriti nel PSP. Quindi attendiamo le osservazioni dalla parte della Commissione, molte osservazioni pervenute e che stanno pervenendo da parte del partenariato, si sta già lavorando, per cui speriamo entro il primo gennaio del 2023 di dare piena attuazione a questo nuovo ciclo di programmazione. Bene, grazie Antonio. Abbiamo cavalcato una panoramica molto dettagliata in realtà su un argomento che è immenso. Allora, chiaramente che la nuova PAC fosse particolarmente verde, questo lo si sapeva già. Certo che ogni volta che ne parliamo, ogni volta che affrontiamo questo tema con i nostri esperti, abbiamo un avanzamento, un'aggiunta degli aspetti che magari si chiariscono un po'. Allora, tra questi, chiaramente, come diceva prima Antonio, il fatto che sia stato dato un colpo decisamente duro la monosessione, questo è chiaro, anche questo si sapeva, insomma, è assolutamente più, come dire, sì, è stato spiegato in modo più chiaro. Il 48% dei pagamenti diretti agli agricoltori rispetto all'85 che era prima, anche quello è un aspetto da tenere presente. L'incognita in realtà ancora degli ecoschemi, perché sono stati definiti, però devono essere ancora discursi, chiariti e via dicendo, perché ad esempio alcune culture in questi ecoschemi fanno fatica a starci o anzi possiamo dire che proprio non ci stanno. E poi, insomma, la data fatidica del 31 marzo, che in realtà è tra pochi giorni, se ci pensiamo, tra pochissime settimane, dopo la quale comincerà un immane lavoro di discussione, di valutazione, di aggiustamento e via dicendo. Quindi, in realtà, io direi che la cosa migliore sarà riparlare di queste tematiche tra qualche mese, perché chiaramente avremo ulteriori avanzamenti, in attesa, chiaramente, del 1 gennaio 2023, in cui dovrebbe partire definitivamente la nuova PAC. Bene, andiamo adesso a parlare del focus proprio del pomeriggio, cominciamo a parlare specificatamente di soia e iniziamo con l'intervento di Giulio Loregian, che ho già presentato prima, category marketing manager oliva ginosa e frumento per Corteva AgriScience e cerchiamo di focalizzare un po' quella che è l'importanza della soia a livello agronomico, a livello agronomico però nazionale. Magari facciamo un po' due punti sulle superfici, vediamo un po' anche qual è però il ruolo della soia nelle filiere zootecniche nazionali e anche qualche accendo, qualche punto legato alla sostenibilità, visto che comunque è una parola chiave proprio per la nuova PAC. ma io lascio la parola a Giulio, prego. Grazie, vi parlerò di soia un po' a tutto tondo questa sera, partirò dal farvi vedere l'importanza che ha la cultura in Italia e anche proprio per vedere che cosa se ne fa della soia che si produce e poi analizzeremo quelli che sono degli aspetti che ritengo fondamentali per fare bene la cultura. Nella mia presentazione parto dicendo che la soia per me è una cultura dall'enorme potenziale. Questo perché? Perché sicuramente è una cultura che vedremo tra poco, si usa per fare tantissime cose e poi perché è anche una cultura dove sia dal punto di vista genetico ma anche dal punto di vista dell'agrotecnica credo ci sia veramente un potenziale di miglioramento molto molto ampio. Ma vediamo un attimo l'importanza che ha questa cultura in Italia. Vi riporto le superfici degli ultimi cinque anni in Italia. Vediamo che nel 2017 si sono attestate attorno ai 285.000 ettari, nel 2018 290.000 ettari, nel 2019 c'è stato un calo se vogliamo anche abbastanza importante a 235.000 ettari e poi si è ripreso con l'aumento nel 2020 i 265.000 ettari e nell'anno scorso un grande balzo perché abbiamo addirittura superato il muro dei 300.000 ettari quindi la superficie si è attestata attorno ai 320.000 ettari. Quindi sicuramente se la mettiamo sul campo di seminativi è una delle principali quattro culture insieme a grano tenero, a grano duro e al mais. Dove si fa la soia in Italia? Sostanzialmente si fa nella pianura padana, nel nord Italia. sono quattro le regioni che da solo fanno il 95% della superficie, Veneto, Friuli, Lombardia ed Emilia e Romagna con il Veneto che da solo fa il 60%. Quindi a parte qualche sporadica presenza della cultura nel centro Italia la soia la si può considerare localizzata nel cuore della pianura padana. Parliamo di produzioni. Se consideriamo l'Italia è il principale produttore in Unione Europea produce, se facciamo una media degli ultimi etarati, delle ultime annate all'incirca un milione di tonnellate. È però vero che è anche un grande deficitare l'Italia perché se ne produce uno ne acquista quasi altri tre. e questo ci fa dire che abbiamo un auto-approvvigionamento interno che possiamo considerare mediamente attorno al 30%. Quindi come si diceva all'inizio della riunione siamo forti di cifitari con un range piuttosto importante. Se poi la paragoniamo alle altre culture, quindi il grano tenero, il grano duro e il mais vediamo che anche per le altre culture in realtà ne importiamo non poche ma vediamo come la soia compare proprio come quella che dobbiamo andare ad acquistare nel territorio in maniera più importante. quindi se per un grano tenero ne acquistiamo da fuori all'incirca un 64% per il grano duro una quota variabile da un 40% a un 45% e per il mais all'incirca la metà di quello che ci serve per la soia il 70% del volume che ci serve lo acquistiamo da fuori. Se diamo un occhio al mercato, il mercato è sicuramente molto interessante nell'ultimo periodo, qui vi riporto le quotazioni degli ultimi dieci anni il paragone è fatto tra le quotazioni della borsa di Chicago che è riferimento mondiale con quello dell'istino della borsa di Bologna. Vediamo, la cosa interessante da vedere è che l'andamento è pressoché parallelo tra le due borse anche se nell'arco dell'ultimo anno vediamo che c'è una forbice di allontanamento tra le due rette. Questo perché? Perché se fino a un anno fa la soia si poteva considerare indifferenziata anzi in qualche periodo in realtà quella estera risultava costare anche qualcosa di più rispetto a quella nazionale da un anno a questa parte non è più così. Vediamo che la quotazione alla borsa merci di Bologna per la nostra soia è relativamente più alta rispetto alla soia estera. questo perché? Perché l'Italia è un paese OGM free e quindi le sue produzioni sono OGM free. È un aspetto che non interessa più solo l'Italia ma sta interessando anche altri paesi dell'Unione Europea ed è il motivo per cui c'è questo differenziale tra l'una e l'altra. E qui proprio lo vediamo in maniera più dettagliata come è cambiato questo differenziale nel corso dell'ultimo anno. Abbiamo differenze di prezzo importanti perché parliamo anche di 13, 15, addirittura euro a quintale di differenza tra la nostra soia e la soia estera. Se allarghiamo l'orizzonte per quanto riguarda i produttori quindi lasciamo nella fattispecie i paesi che ricadono nell'Unione Europea ma diamo uno sguardo all'Europa in generale vediamo che altri paesi produttori con produzioni importanti sono Croazia e Serbia che però sono sotto le nostre produzioni mentre un ruolo da protagonista lo esercita l'Ucraina. L'Ucraina addirittura nelle annate a maggiore produzione è arrivata a produrre anche 5 milioni di tonnellate di soia. Che cosa può cambiare con gli scenari attuali che conosciamo? No, direttamente non ci influenza sul discorso del prezzo perché innanzitutto l'Ucraina produce soia per l'80% OGM e quindi non essendo un paese d'Italia che importa soia OGM questo non ci interessa direttamente. È anche vero però che in ragione degli scenari che tutti conosciamo potrebbe essere che le superfici a soia in Ucraina siano riviste riviste a ribasso e questo può portare ad un deficit di produzione in Europa e questo indirettamente può influenzare anche il prezzo a casa nostra. Quindi dobbiamo analizzare degli scenari che sono sicuramente in fermento e che possono condizionarci anche indirettamente. Parliamo un po' di quelle che sono le destinazioni d'uso del semi di soia. La stragrande maggioranza, un 80% della produzione, ha un indirizzo che va nella zoctenia, quindi produzione di farime e di mangimi usati nell'alimentazione animale. ma è anche vero che un 20% della produzione è indirizzato all'industria alimentare e vedremo tra poco che è una quota che è destinata anche a crescere ma che ha la sua importanza. Relativamente alla destinazione zootecnica, che cosa si fa con la soia? Si producono delle farine di soia, ricordiamolo, la soia è l'alimento vegetale più proteico e quindi capite bene l'importanza che ha nell'alimentazione anche animale soprattutto se pensiamo all'Italia come paese che ha tante DOP, che ha tanti GP e che cosa si fa? Si fanno delle farine, si ottengono delle farine che sono classificate in farine con proteina o al 44% o al 48% in funzione della lavorazione a cui vanno incontro. altresì c'è un altro tipo di farina, la farina integrale dove la quota di proteina è più bassa rispetto a quelle che abbiamo menzionato una variabilità tra il 35% e il 38%. Che cosa si fa all'ilà della farina di soia? Si ottengono degli oli, olio di soia, degli isolati, isolati di soia, la fibra di soia e i concentrati di soia e questo ha un suo mercato, ripeto, sempre crescente, di non poca importanza da cui si ottengono i prodotti che vediamo, il latte di soia che probabilmente conosciamo in tanti dei sostitutivi della carne, per esempio i famosi hamburger dei vegetali oppure alimenti per l'infanzia, una serie di bibite che ha come base la soia il burro di soia, i gelati anche della soia, gli yogurt di soia per cui una moltecipità di prodotti a base di soia Sicuramente la filiera dell'alimentare è una filiera molto importante che ci riguarda anche direttamente in corteva come seme, ma lo vediamo tra un attimo però la produzione alimentare non è l'unica c'è una quota di produzione che va anche nella nutrizione clinica ma una quota che va all'ottenimento di prodotti per la salute quindi la cosmesi in particolare e una quota a parte che va alla produzione di prodotti industriali quindi quelli che sono dei pulimeri, gli adesivanti, inchiostri, coloranti, solventi tutta una serie di prodotti che va sotto il comparto dell'industria quindi capite bene l'importanza e i vari sbocchi che ha la soia come prodotto Come corteva sapete che siamo protagonisti avendo il brand Pioneer delle sementi e in merito alla filiera alimentare siamo dei forti protagonisti perché abbiamo una varietà storica, la 91 M10 che da quasi 20 anni è sul mercato in Italia ed è sicuramente il riferimento riconosciuto per la filiera alimentare proprio nel nostro comparto Qual è stato il successo dell'M10? Beh sicuramente non bisogna tralasciare l'aspetto produttivo per cui una soia che produce bene, molto produttiva per il suo ciclo di maturità ricordo che è un ciclo, un gruppo 0+, per cui una soia precoce è una soia che ha un elevato tenore proteico per cui buono il rapporto tra produttività e qualità è un seme di grande dimensione ed è uno degli aspetti che l'industria ricerca perché è più facilitata nella lavorazione è una granella naturalmente a dillo bianco perché se pensiamo alla filiera alimentare è imprescindibile che la soia sia a dillo bianco per una serie di motivi che vanno dalla facilitazione della lavorazione a una minor colorazione delle bevande e dei prodotti che si ottengono e quindi tutte quelle che sono le soie a dillo bianco trovano questa opportunità è sicuramente una soia molto produttiva e molto stabile nel tempo per quanto riguarda le produzioni ma anche per gli ambienti di coltivazione per cui che facciamo l'M10 in Lombardia o che la facciamo in Emilia Romagna o in Veneto abbiamo una soia che ci permette di avere delle produzioni molto stabili nel tempo e nella geografia come detto prima è un gruppo 0+, un gruppo precoce per cui si adatta molto bene a semine per quanto riguarda le semine di primo raccolto ma soprattutto anche per le semine di secondo raccolto quindi penso a una soia dopo colza o una soia dopo frumento il ciclo molto colto ci permette di raccoglierla in tutta tranquillità un aspetto fondamentale anche per la soia parliamo di sostenibilità una parola che ormai hanno in bocca a tutti una parola che è ricorrente in tutti i settori e anche l'agricoltura non è tralasciata anzi è proprio vorrei dire uno di quei settori dove la parola sostenibilità è strettamente attenzionata perché è una cultura sostenibile la soia? innanzitutto lo sappiamo è una leguminosa per cui essendo una leguminosa ha la possibilità di fare l'azoto fissazione quando nel terreno si trovano il terreno si trova in presenza degli azoto fissatori come il bradi rizalbion giapponico e questo è già un motivo per cui si può considerare una cultura sostenibile naturalmente come ditta sementiera siamo da anni impegnati in una serie di tecnologie da applicare al seme e chiaramente il rizalbio per quanto riguarda la soia è uno di quelle che maggiormente attenzioniamo Rizocoat è il nostro marchio dove sta ad indicare la presenza in quel seme del ceppo selezionato di bradi rizalbion giapponico ed è una formulazione particolare nel senso che abbiamo sviluppato una formulazione che garantisce grande vitalità a questi ceppi batterici anche nel tempo pensiamo soprattutto se andiamo a seminare una soia in secondo raccolto il fatto che questo sacco di seme stia in un magazzino diversi mesi c'è bisogno che questo ceppo sia adatto a poter passare questi mesi in un magazzino dal nostro punto di vista abbiamo attenzionato abbiamo sviluppato questo prodotto molto concentrato e con una vitalità molto prolungata in realtà non ci stiamo fermando qui perché stiamo sviluppando un nuovo rizalbio che probabilmente andremo a commercializzare nella nata 2023 un rizalbio ulteriormente migliorato ulteriormente concentrato e dove abbiamo migliorato ancora di più la vitalità ma oltre a questo stiamo lavorando nella direzione di mettere ulteriori tecnologie al seme e quindi prossimamente saremo pronti anche sulla soia con una serie di novità ritornando al tema della sostenibilità cultura azoto fissatrice qui vi riporto il bilancio dell'azoto di un ettaro di soia di gruppo 1 essendo una proteica capite bene che le proteine si fanno con gli aminoacidi e gli aminoacidi con l'azoto quindi una cultura che ha fortemente bisogno di azoto di quelle 330 unità che mediamente possiamo considerare essere quelle necessarie per sopperire al fabbisogno di questo gruppo 1 all'incirca 190 unità sono assorbite tramite l'azoto fissazione quindi la soia se ne autoprovvigiona le restanti unità per arrivare ai 330 le assorbe dal terreno quindi capite bene che la soia già di per sé fa un lavorone e si porta a casa quelle unità senza che gli ne diamo noi in realtà vedremo tra poco che non è proprio così o meglio possiamo considerarlo così per l'azoto non per altri tipi di elementi va si detto anche che sempre nell'ambito della sostenibilità quelle 330 unità non sono assorbite completamente dal seme ma una quota a parte rimane nei residui vegetali quindi nelle foglie, negli steli e nella radice e se ci pensiamo è un valore aggiunto perché quel residuo culturale è residuo che andiamo a incorporare poi nel terreno e che ci permette di essere una fonte di azoto per la cultura successiva quanto possiamo considerare per la cultura successiva? beh, se tolte le asportazioni della granella quello che resta nei residui culturali mettiamo pure in conto di perdere una parte per denitrificazione o per dilavamento ma un 50-60 unità di azoto le possiamo considerare assolutamente disponibili per la cultura che segue quindi capite anche in questo caso è un motivo in più per dire che la soia è una cultura altamente sostenibile se andiamo però a vedere la dinamica dell'assorbimento dell'azoto anche qui c'è un margine di miglioramento perché abbiamo parlato del rizobio che fa una quota a parte dell'azoto fissazione ma i rizobio funzionano fino ad un certo punto nel ciclo della pianta funzionano generalmente fino al mese di luglio dopodiché muoiono e quindi si interrompe l'azoto fissazione se vediamo nel grafico la curva di assorbimento dell'azoto da parte della pianta è una curva crescente che dura fin tanto che la cultura fotosintetizza che cosa vuol dire? vuol dire che se il rizobio si ferma a luglio tutto il resto della curva in realtà il rizobio non va a lavorare che cosa si può fare? qual è lo spazio di miglioramento? lo spazio di miglioramento lo si può fare con diversi prodotti come Corteva ne abbiamo già parlato nell'Accademia dei seminativi per quanto riguarda frumento e mais precedenti lanciamo quest'anno un prodotto estremamente importante che è il Blue N un prodotto anche qui dove lo scopo è quello di fare dell'azoto fissazione ma lo facciamo in maniera diversa dal rizobio della soia perché è un'azoto fissazione fogliare quindi non radicale qual è il vantaggio? il vantaggio è sicuramente quello di avere un cepo batterico che lavora fin tanto che la cultura è vitale cioè fin quando fa la fotosintesi e quindi vediamo bene nel grafico la parte cerchiata che quella è la parte dove il prodotto come Blue N può lavorare e che quindi può andarmi ulteriormente a migliorare l'azoto fissazione quindi come dicevo prima c'è ampio margine di miglioramento siamo già pronti per riuscire a lavorare anche in questa direzione sicuramente cultura sostenibile la soia ma vorrei sfatare un mito che è quello che la cultura della soia non ha bisogno di niente e che quindi tante volte si pensa a farla seminandola e raccogliendola senza fare niente in mezzo o altresì per non fare culture con input diversi in realtà sfatiamo questo mito perché anche la soia ha bisogno di alcuni input abbiamo visto che se per l'azoto la possiamo considerare abbastanza autosufficiente in realtà per altri elementi non è sempre così quelle che vedete nelle slide sono delle foto che ho scattato in ambienti anche avvocati a soia dove si va incontro anche a rotazioni piuttosto strette e vediamo che in realtà qualche carenza si inizia a vederla potassio per esempio o il ferro per cui non pensiamo che la soia non va concimata perché sarebbe un grosso errore l'importanza dell'irrigazione per far bene alla soia anche qui a volte si pensa che la soia sia poco esigente siamo soliti pensare al mais come un grosso asportatore di acqua ma vediamo che anche la soia ha il suo fabbisogno di acqua addirittura tra i 400 e i 450 millimetri in un anno nel suo ciclo biologico sempre se consideriamo un gruppo 1 chiaramente anche qui l'attenzione va posta anche nel momento in cui irrigare se abbiamo una cartuccia disponibile quindi se abbiamo un'irrigazione disponibile dove la andremo a fare non la andremo a fare troppo presto anche perché questo comporterebbe a un eccessivo vigore vegetativo della pianta ma la andremo a posizionare nella fase di ingrossamento del seme che vediamo appunto essere anche dal grafico il periodo di maggiore assorbimento e di maggiore necessità per la soia quindi se vogliamo fare la soia e la vogliamo fare bene con un obiettivo di resa ambizioso la vogliamo fare per una buona redditività non pensiamo che non abbia bisogno di input quindi importante la concimazione importante l'irrigazione importantissimo il diserbo che vedremo dopo con i colleghi che mi succedono quindi ripeto una cultura sì sostenibile ma diamo le attenzioni che serve per fare la cultura in maniera fatta bene tornando un attimo al fabbisogno idrico anche questo che vedete nelle foto è un qualcosa che si sta iniziando a vedere sempre di più a causa di anate molto molto siccitose la sindrome della pianta verde la sindrome della pianta verde non è altro che il fatto che la pianta non avendo del seme prodotto appunto per le alte temperature o per un eccesso di siccità manca un sink di fotosintetanti cioè manca quella fonte che richiede i fotosintetati che la pianta ha fatto con la fotosintesi che cosa succede che la pianta continua a vegetare e quindi tende a non chiudere il ciclo il ciclo biologico i risultati quali sono? sicuramente mancate produzioni arriviamo anche a produrre solo qualche quintale per ettaro o come succede in terreni con variabilità di tessitura nelle zone più più leggere la coltura va incontro allo stress e poi succede che durante la trebbiatura si devono fare dei zigzag per raccogliere solo la parte buona che cosa voglio dire che anche qui l'irrigazione ha una una importanza fondamentale per portare a casa la cultura per produrre di più ma soprattutto per evitare fenomeni di questo tipo se parliamo sempre dell'importanza di fare bene la cultura non possiamo esimere da usare un buon seme quindi l'uso del seme certificato da sempre Pioneer è un sinonimo di qualità del seme nel mercato italiano ma l'importanza del seme certificato qual è? innanzitutto quello di avere un seme con la massima purezza genetica di avere un'altissima germinabilità e di avere soprattutto una grande sanità come ditta sementiera siamo tenuti a dei rigidi controlli fitosanitari ma questo ci permette di mettere nel mercato un seme con una sanità assoluta e quindi di limitare la diffusione delle malattie anche qui la soia non è che non prenda delle malattie anzi ne ha diverse soprattutto dal punto di vista fungino e lo stiamo iniziando a vedere sempre di più con le rotazioni strette con il fatto che se di soia in Italia se ne sta facendo tanta quindi il seme certificato in questo senso è sicuramente una garanzia per limitare la diffusione delle malattie che cosa poi ci consente l'uso del seme certificato sicuramente la tracciabilità della filiera la filiera del seme e sicuramente la completa assenza di OGM siamo un paese OGM free quindi questo tema è particolarmente caro se parliamo di soia l'uso di seme certificato ci dà tutta la tranquillità e la garanzia di essere a posto da questo punto di vista come dicevo prima poi l'uso del seme certificato ci consente anche di avere le migliori tecnologie applicate al seme e tutte le tecnologie più moderne a disposizione che Pioneer mette a disposizione se parliamo di portafoglio varietale sicuramente Corteva con il marchio Pioneer è leader in Italia per quanto riguarda la soia ad oggi abbiamo un portafoglio che si sviluppa e copre tutte le classi di maturità partendo dalla 0 più con l'M10 che ho già menzionato prima la 15A20 che fa parte della serie A ed è una novità di quest'anno un gruppo 1- un gruppo molto avvocato una soia molto avvocata per semine sia di primo che di secondo raccolto e soprattutto per ambienti difficili la A02 la T45 che vedremo tra un attimo e la B63 la soia più tardiva che abbiamo nel portafoglio gruppo 1- mi soffermo solo nella T45 perché la T45 sono un po' di anni che Pioneer l'ha presentata al mercato e da subito si è confermata leader indiscussa leader indiscussa perché è sicuramente una supremazia produttiva ed è una supremazia che oltretutto ha stabilmente negli anni quindi non è una soia che produce tanto un anno sia un anno no ma è una soia molto stabile dal punto di vista produttivo esercita le più alte punte produttive nel mercato e oltretutto ha un buonissimo tenore proteico perché superiamo il 40% della proteina del contenuto in proteina del seme e quindi un ottimo rapporto produttività e qualità ha altresì un ottimo rapporto produttività precocità perché la classifichiamo come gruppo 1 ma in realtà è quasi più spostata ad essere un gruppo 1- per cui interessante sia dal punto di vista della raccogliabilità perché abbiamo tutta la tranquillità di raccoglierla anche in annate magari dove la piovosità inizia presto e poi è una soia che come l'M10 può essere interessante sia per il primo raccolto che per il secondo raccolto quindi anche nel dopo frumento dopo colza o dopo orzo è una soia che si presta benissimo ad essere seminata infine non da ultimo ha dei caratteri agronomici tali quindi la buona predisposizione a ramificare che la rendono interessante anche per chi vuole seminare con l'interfila larga quindi con l'interfila da 70 o da 75 cm come il mais è una soia che sicuramente si presta anche a questo bene grazie grazie Giulio direi che abbiamo fatto anche in questo caso delle considerazioni molto importanti anche perché spesso in periodi in cui c'è un po' di incertezza sul mercato le culture hanno gli andamenti delle quotazioni particolari si è vicini alle semine magari si ripensa un po' a quello che si era prospettato di seminare via dicendo il rischio è di cadere un po' in una cultura considerare la soia come una cultura salda tutto le quotazioni sono alte un po' di resa la porto a casa in qualche modo poi magari mi costa meno con i fertilizzanti vi dicendo sì da un certo punto di vista è giusto però abbiamo visto nella presentazione di Giulio come in realtà anche la soia sia una cultura estremamente tecnica richieda un'attenzione particolare a livello agronomico per la nutrizione anche perché come diceva giustamente non è che l'azotofissazione verizzovi si risolva completamente bisogna comunque considerare gli aspetti di accumulo e di nutrizione che sono successivi quando appunto dopo luglio la cultura smette di funzionare in azotofissazione e poi l'acqua chiaramente che è una componente fondamentale bene tutto questo però ancora più importante e lo vedremo adesso è l'aspetto legato al diserbo le strategie di diserbo devono essere studiate bene con grande attenzione e anche perché e ce ne parlerà Edisa Mascanzoni anche la soia si confronta con il fenomeno delle infestanti resistenti chiaramente vedremo infatti con lei con il suo intervento quello che è stata un po' l'evoluzione di questo fenomeno e ci concentreremo in modo particolare proprio sulla problematica degli amaranti e dei giavoni che insomma chi coltiva soia sa bene quante difficoltà soprattutto se resistenti determinano in campagna ma lascio la parola a Edisa prego buonasera a tutti nella mia presentazione ci focalizzeremo su quelle che sono le problematiche delle infestanti e in particolare delle infestanti resistenti nella soia in Italia partiamo da un concetto abbastanza semplice che cos'è un infestante un infestante è una pianta che semplicemente cresce nel posto sbagliato al momento sbagliato nella foto a destra vedete un campo di soia infestato da amaranti e quindi in questo caso siamo nell'ambito di un infestante di un'erbaccia a sinistra vediamo una coltivazione di amaranto commestibile e non siamo più nel contesto di un'infestazione per quale motivo ci interessa la problematica delle infestanti sembra banale ma non lo è sempre è buono fare una piccola panoramica è una storia vecchia come l'agricoltura e il problema principale è che le infestanti competono con la coltura per quanto riguarda i nutrienti la luce lo spazio vitale e l'acqua inquinano la semente per esempio in generale possiamo pensare alla problematica del riso crodo nel riso possono rappresentare una minaccia per la salute pubblica come ad esempio le allergie che ci porta l'ambrosia e causano perdite di produzione che possono arrivare al 90% se le infestanti non sono adeguatamente controllate e quindi ha un enorme danno economico per gli agricoltori dal 1945 comunque bisogna dire che gli agricoltori sono stati meglio equipaggiati nella lotta alle resistenze di quanto siano mai stati in qualsiasi altra era umana con la scoperta dei primi diservanti selettivi 2,4D ed MCPA da allora sono stati commercializzati 220 erbicidi con 26 siti d'azione diversi abbiamo avuto negli anni 70 la grande rivoluzione del glifosate negli anni 80 i diservanti estremamente selettivi a meccanismo d'azione ALS questo ha portato degli enormi vantaggi per gli agricoltori quindi un aumento e una stabilità delle produzioni probabilmente mai vista prima un abbattimento molto forte dei costi del diserbo con un conseguente aumento del profitto per gli agricoltori e anche della disponibilità alimentare per i consumatori e meno problemi di salute pubblica questo però ha portato anche ad alcuni svantaggi prima di tutto un'eccessiva semplificazione delle strategie di diserbo a causa di un eccesso di utilizzo quindi un'estrema dipendenza dalla chimica di sintesi che ha avuto da una parte quello che viene riconosciuto ormai come un certo impatto ambientale dall'altra l'altra faccia della stessa medaglia ha portato a una cattiva reputazione della chimica di sintesi non ultimo il problema delle infestanti resistenti che cos'è la resistenza la resistenza è un processo evolutivo cioè è la risposta di una specie ad un'aggressione esterna ogni volta che tentiamo di eradicare una specie e questo vale per le infestanti ma vale anche per i batteri vale anche per gli insetti gli individui presenti in cui la determinata popolazione è già resistente all'erbicida si riproducono vanno a prendere il posto degli individui sensibili e nel tempo avremo una sostituzione di popolazione con una popolazione completamente resistente che cosa influenza l'evoluzione della resistenza ci sono molti fattori che la influenzano prima di tutto la frequenza iniziale di individui resistenti né in quella determinata popolazione secondo la genetica della pianta e questi sono fattori diciamo intrinseci e poi ci sono fattori esterni quali per esempio la pressione di selezione esercitata dall'uomo quindi di origine antropica per esempio la monosuccessione rotazioni strette sia rotazioni strette di culturali ma anche rotazioni strette di erbicidi di pochi erbicidi con pochi meccanismi di azione disponibili l'adattabilità della specie alle varie condizioni ambientali e alle varie culture e pensiamo per esempio proprio ai giavoni e agli amaranti che sono specie estremamente competitive estremamente adattabili a tutte le condizioni ambientali e infatti ce le troviamo in molte culture estive come ad esempio la soia il mais ma per quanto riguarda il giavone anche il riso il successo della specie a livello riproduttivo è un altro fattore la banca del seme quindi quanti semi abbiamo nel terreno e la sopravvivenza dei semi nel terreno le due infestanti che vedremo oggi giavoni e amaranti hanno una sopravvivenza del seme nel terreno che può andare dai 3-4 anni per gli amaranti fino ai 7-10 anni del giavone e un altro fattore è l'attività residuale dell'erbicida utilizzato come appare la resistenza e come si distribuisce nel territorio la resistenza appare a macchia di leopardo due piante qui due piante là dopodichè si distribuisce nel territorio e ce la troviamo un po' diffusa ovunque la diffusione dipende da vari fattori anche qui abbiamo l'abbondanza di semi prodotti la capacità di adattamento della specie e i vettori quindi l'acqua che trasporta i semi le macchine agricole che possono trasportare semi nelle ruote o nelle attrezzature la trasmissione dei caratteri di resistenza della specie e questa è una caratteristica genetica e l'utilizzo di sementi inquinate o sementi non certificate passiamo un po' qui sono andata un po' veloce vediamo quella che è la situazione attuale della resistenza nella soia al 2022 la mappa che vedete qui viene dal sito del GIRE il GIRE è il gruppo italiano di resistenza gli erbicidi che ha sede a Padova è un organismo del CNR che comprende oltre al CNR anche membri delle varie compagnie produttrici di fitofarmaci come ad esempio Corteva ma anche membri di istituti pubblici quali ad esempio l'ente nazionale Risi il GIRE ha un sito che è open source quindi può essere consultato da tutti e tutti possono creare mappe di resistenza per tutti i più svariati sistemi culturali e le infestanti più importanti inoltre propone anche linee guida per la gestione della resistenza la descrizione delle infestanti ad oggi resistenti insomma parecchio materiale al momento che cosa sappiamo per quanto riguarda la soia la resistenza alle infestanti nella soia si è sviluppata in circa 80 comuni del nord est quindi Lombardia Friuli Venezia Giulia Veneto ed Emilia Romagna la specie più coinvolta è l'amaranto amaranto SPP perché come vedremo dopo sono varie le specie coinvolte e amaranto è stato trovato resistente solamente agli inibitori degli ALS in 78 comuni di queste quattro regioni che ho citato prima poi abbiamo la resistenza agli inibitori degli Accase che coinvolge due specie Digitaria sanguinalis ed Echinocloacus galli quindi i Giavoni che è stata trovata al momento solo in tre comuni in Veneto Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e poi abbiamo un unico caso di Digitaria sanguinalis che è stata trovata resistente sia ad Accase che ad ALS nella stessa popolazione in due comuni dell'Emilia Romagna oggi ci fermeremo sulla descrizione di due specie maggiori una graminacea che è Echinocloa e una dicotiledone che è amaranto entrambe sono specie annuali altamente competitive hanno un metabolismo di tipo C4 hanno una grande adattabilità ambientale possono produrre un'enorme quantità di semi una singola pianta di Giavone può produrre fino a 40.000 semi una singola pianta di amaranto nel caso diciamo estremo di amaranto spalmeri può arrivare a produrre fino a 600.000 semi quindi stiamo parlando veramente di quantità enormi la persistenza nel terreno del seme è di 7-10 anni come dicevo prima per il Giavone 3-4 anni per gli amaranti come dicevo prima per ora gli amaranti sono risultati resistenti solamente agli ALS mentre Echinocloa ma questo a livello italiano ha sviluppato resistenza sia ALS che a case che ALS più a case e anche quel tipo di resistenza chiamata metabolica di cui non si conosce bene l'origine genetica della resistenza per amarantus ci ho tenuto a precisare che è una specie ad impollinazione allogama che ha specie sia dioiche che monoiche è possibile una cross pollination fra specie ed è stata verificata l'esistenza di ibridi quindi di ibridi appunto fra due specie diverse di amaranto per quanto riguarda Echinocloa si parla generalmente di ibridi perché ci sono diciamo morfologie in campo di cui non si riesce bene a cui non si riesce bene ad assegnare la specie ma non è mai stata verificata scientificamente l'esistenza degli ibridi perché è importante riconoscere le specie conoscere il proprio nemico ci permette di mettere in atto strategie di resistenza le più corrette possibili perché succede spesso che diverse specie appartenenti allo stesso genere possono evolvere resistenza più velocemente o più lentamente Echinocloa Cruzgalli fortunatamente per il sistema della soia è risultato meno pericoloso rispetto ad Echinocloa Rizzicola o altre specie anche se comunque è voluto resistenza e questo perché dipende da vari fattori uno dei fattori agronomici più importanti è che Echinocloa Cruzgalli ha uno span di germinazione più breve e quindi diciamo è più facile contenerlo con una o due applicazioni di diserbo in posta emergenza è una generalizzazione è una semplificazione ma da un'idea del perché Echinocloa Cruzgalli rispetto ad altre specie diciamo da meno preoccupazioni mettiamola così per quanto riguarda Amaranthus il genere Amaranthus comprende specie sia Monoiche che Dioiche a livello mondiale quelle che danno più problemi di resistenza sono le specie Dioiche questo può essere verificato sul sito di withscience.org quindi il riconoscimento è fondamentale per comprendere il livello di rischio ciò che intendo è che a livello mondiale sono state trovate specie Dioiche quindi piante che hanno evoluto resistenza a 5 meccanismi d'azione contemporaneamente mentre per le specie Monoiche fino a 3 quindi diciamo il livello di rischio per le specie Dioiche è più alto anche se in Italia è più diffusa la resistenza sulle specie Monoiche ma perché sono più diffuse le specie Monoiche passando un attimo al riconoscimento delle specie partiamo dai Giavoni come si riconosce l'Echinocloa Cruzgalli rispetto alle altre specie di Giavone alla germinazione lo vediamo perché ha un portamento prostrato spesso con una colorazione rossa vicino al colletto fa piante più alte rispetto alle altre specie di Giavone e ha una tipica ginocchiatura una piegatura a livello del nodo la Pannocchia ha un portamento generalmente più pendulo con le ariste lunghe spesso di colore rossastro e le spighette di norma sono più separate sul racchide della Pannocchia questo però non è un carattere generale si trovano spesso come dicevo prima forme intermedie per la quale non è facile definire se si tratta di Echinocloa Cruzgalli di Echinocloa orizzicola di Echinocloa orizoides perché ci sono popolazioni li chiamano rosati violetti che a volte possono portare colorazioni strane e quindi non è sempre facile capire chi ci troviamo davanti il metodo per ora sicuro per trovare Echinocloa Cruzgalli e riconoscerlo è questo come vedete nel riquadro rosso Echinocloa Cruzgalli ha cariossidi che sono decisamente più piccole rispetto alle altre specie di Giavone non dico la metà ma quasi quindi a fine ciclo bisogna andare a vedere la pannocchia bisogna scuoterla oppure strofinarla e guardare la dimensione della cariosside se è piccola quasi sicuramente ci troviamo di fronte ad Echinocloa Cruzgalli è chiaro il problema qual è? che questo sistema è un sistema ex post cioè non riusciamo ad avere il riconoscimento di Echinocloa sulla plantula al momento del diserbo ma solamente a fine ciclo il riconoscimento della plantula è difficile se uno vuole avere la certezza bisogna scavare sotto la plantula e andare a vedere la dimensione o la forma della cariosside che ha dato origine a quella determinata piantina passando all'argomento più grosso che sono gli amaranti per la soia anche per gli amaranti c'è un problema di riconoscimento e anche per gli amaranti è difficile riconoscere le varie specie nelle prime fasi del ciclo mettiamola così anche qui il Giro viene il nostro soccorso Andrea Milani del CNR ha fatto un dottorato sulla classificazione degli amaranti e adesso sul titolo del Giro è pubblicata una guida al riconoscimento degli amaranti una guida diciamo semplificata che è lo schema ad albero che vedete alla vostra destra ma c'è anche una spiegazione di come fare di stricarsi fra le varie forme la cosa più importante scusate che vedete qua è quella di partire dalla consapevolezza come dicevo prima se ci troviamo di fronte a specie dioiche o monoiche come facciamo a riconoscerle è facile le specie monoiche hanno fiori maschili e femminili sulla stessa pianta le specie dioiche hanno piante con solo i fiori maschili o solo i fiori femminili quindi dove avremo solo fiori maschili durante la fioritura dell'amaranto vedremo la produzione di polline sui fiori femminili e a fine ciclo vedremo la produzione di semi le piante monoiche invece portano fiori maschili e fiori femminili diciamo sulla stessa pianta e i fiori maschili sono posti all'apice della spiga in modo che al momento dell'impollinazione il polline cade e la fecondazione avvenga per gravità passiamo alle specie più diffuse in Italia partiamo dalle specie monoiche le più diffuse sono Amarantus retroflexus e Amarantus ibridus sicuramente il più comune è il primo è una specie monoica che ha evoluto resistenza agli ALS sia nella soia che nel mais con il primo caso accertato nel 2003 e poi abbiamo Amarantus ibridus un'altra specie monoica che è in diffusione in Italia ha evoluto resistenza agli ALS finora solo nella soia con il primo caso accertato nel 2017 entrambe sono due specie molto competitive con una produzione media di semi che può andare dai 300 ai 500 mila semi per pianta quindi parliamo di quantità molto grosse come le riconosciamo? per quanto riguarda l'Amarantus retroflexus bisogna come dicevo prima partire dal fatto di riconoscere una pianta monoica se a spine non è Amarantus retroflexus è un'altra specie Amarantus retroflexus si conosce perché ha i tepali lunghi come potete vedere nella foto in giallo a sinistra Amarantus ibridus d'altro canto ha bisogno di uno step in più è sempre una pianta monoica non ha spine ha i tepali corti ed ha soprattutto la membrana della brattea che si ferma a metà della brattea anche in questo caso per tutti gli Amaranti come per il Giavone siamo di fronte a caratteri molto fini perché è così in questo momento questo è il metodo più sicuro che abbiamo per poter riconoscere le piante di Amaranto andando alle specie di Oiche che sono quelle che a livello mondiale danno più problemi in Italia ce ne sono due Amarantus palmeri e Amarantus tuberculatus tuberculatus ci sono più che fondati sospetti quasi prove scientifiche direi che è arrivato in Italia già resistente agli ALS dall'estero la caratteristica di Amarantus palmeri come dicevo prima è quella di avere una produzione di semi estremamente abbondante fino a 600.000 semi per pianta il primo caso di resistenza registrato nella soia è del 2018 Amarantus tuberculatus ha come caratteristica di essere la più tardiva fra le specie ed ha un'enorme scalarità di germinazione rispetto agli altri chiaramente come distinguiamo le tue specie qui è più facile trovandoci di fronte a una pianta di Oica andiamo a vedere le infiorescenze se abbiamo 5 tepali nel fiore siamo di fronte ad Amarantus palmeri se abbiamo 3 tepali siamo di fronte ad Amarantus tuberculatus quindi spero di avervi fatto una panoramica abbastanza esaustiva ultima come fronteggiare la resistenza agli erbicidi a me piacerebbe dirvi che abbiamo la soluzione a bacchetta magica non ce l'abbiamo la parola d'ordine è diversificare le strategie diversificare le strategie e quindi prendere questo pacchetto di misure o di tecniche che ho elencato qui non sono solo queste ce ne sono molte altre come una cassetta degli attrezzi alla quale l'agricoltore il tecnico possono attingere a seconda dei propri bisogni e delle proprie possibilità ve ne dico solo alcune la prima un intervento tempestivo per tutte le infestanti in particolare per gli amaranti è necessario agire precocemente su plantule piccole perché più tardi si tratta più è facile che alcune piante sfuggano la miscela e la rotazione di erbicidi con diversi meccanismi d'azione rotazioni troppo strette di erbicidi con meccanismi d'azione limitati possono comunque favorire la resistenza per cui senza abbandonare erbicidi che hanno già dato qualche problema si può si possono fare delle miscele per esempio in post emergenza con una LS e con un altro meccanismo d'azione come per esempio quello del bentazzone oppure attuare altre strategie di semina in presemina o in preemergenza fino a poco tempo fa tutte le volte che c'era il problema della resistenza si diceva cambia meccanismo d'azione cambia meccanismo d'azione cambia meccanismo d'azione questo mantra è vero solo in parte ci sono studi scientifici recenti che dimostrano che la miscelare meccanismi d'azione diversi e ruotare queste miscele è molto più efficace per combattere la resistenza rispetto alla semplice rotazione poi la rotazione culturale per diversificare la flora infestante dove è possibile per esempio con cereali a paglia ciclo invernale o colza che quindi andranno a produrre mettiamo così o dove nascerà una flora spontanea di tipo invernale tecniche di controllo agronomiche e chimiche come ad esempio la ratura l'affinatura la sarchiatura e la falsa semina l'utilizzo di semente certificate l'adesione a linee tecniche corrette quindi che minimizzino il rischio di resistenza è evitare sovradosaggi e sottodosaggi di erbicidi rispettando le dosi di etichetta sovradosaggi e sottodosaggi sono quasi una causa sicura di evoluzione della resistenza vi ringrazio per la vostra attenzione bene grazie grazie a te Elisa abbiamo visto quanto in realtà per fronteggiare la problematica delle resistenze il ruolo di chi lavora in campagna sia assolutamente fondamentale quindi proprio da un punto di vista agronomico e abbiamo visto anche quanto è diffusa ormai proprio al nord Italia negli areali classici di coltivazione della soia la problematica delle resistenze ecco allora a fronte di una problematica di questo genere oltre chiaramente all'attività che si può fare in campagna da un punto di vista agronomico un'attenzione all'impiego dei principi delle sostanze attive sottodosaggi e sovradosaggi come si diceva c'è chiaramente anche la possibilità di attuare delle strategie innovative che vengono continuamente aggiornate e studiate dai tecnici delle aziende come Corteva che producono appunto prodotti per il diserbo nello specifico vedremo con Mirko Guarise quelle che sono le nuove strategie anche alla luce di queste criticità per contenere la problematica delle malerbe su soia però prima del suo intervento c'è un video che chiedo alla regia di far partire Corteva Griscience vi presenta la nuova linea di diserbo della soia con Tuareg Gnu Tuareg Gnu è il nuovo erbicida per la soia contenente uno specifico bagnante più potente più veloce e più flessibile linea diserbo soia per infestazioni miste con presenza di foglie larghe a califa amaranto resistente forte pressione di farinello e graminacee giavoni difficili e sorghetta diserbo della soia in tre passaggi al trattamento di preemergenza di precondizionamento delle infestanti seguono due trattamenti specifici uno per la foglia larga e uno per le graminacee in presemina eseguire una lavorazione oppure un'applicazione erbicida totale per il controllo della flora infestante presente dopo la semina eseguire entro pochi giorni il trattamento di preemergenza con alcance e mesonzin anche per il controllo di acalifa e amaranto resistente dopo circa 15-20 giorni allo stadio di due quattro foglie vere della soia eseguire il primo trattamento di post-emergenza con Tuareg New in miscela a rigron in caso di presenza di amaranto resistente oppure a prodotti contenenti tifensulfuron in caso di forte presenza di farinello questo primo trattamento consente il controllo di tutte le foglie larghe anche quelle più difficili e resistenti dopo 25-30 giorni dalla semina eseguire il secondo trattamento di post-emergenza specifico per il controllo delle graminacee con Exocet in abbinamento al bagnante Codacide di serbo della soia in solo due passaggi questa strategia consente di risparmiare un trattamento abbinando in un solo intervento le applicazioni per il controllo della foglia larga e delle graminacee indicato soprattutto per situazioni con infestazioni non troppo elevate in pre-semina eseguire una lavorazione oppure un'applicazione erbicida totale dopo la semina eseguire entro pochi giorni il trattamento di pre-emergenza con Alcans e Maison-Synne dopo circa 15-25 giorni allo stadio di 3-5 foglie vere della soia eseguire l'unico trattamento di post-emergenza con Tuaregnu alla dose massima in miscela Rigron in caso di amaranto resistente o Tifensulfuron in caso di forte presenza di farinello aggiungere infine il graminicida Exocet in abbinamento allo specifico bagnante Codacide con Tuaregnu avrai una soia più pulita e produttiva Bene veniamo quindi al diserbo o meglio alle nuove tecniche di diserbo un primo commento beh dopo la presentazione di Elisa su questi infestanti tipo Giavone amaranto così invasive resistenti ai principali erbicidi mi viene a dire ma come facciamo a diserbare perché sono due infestanti che sono delle macchine da guerra delle macchine fisiologiche che crescono sono molto competitive sono molto invasive ha un accrescimento molto rapido abbiamo detto sono delle C4 per tradurre sono delle Ferrari e la soia è una C3 insomma è una vettura un po' più lenta come facciamo a contenerlo e poi gli erbicidi cominciano a far fatica qui abbiamo visto un video molto veloce che è un distillato di tutto il lavoro di Corteva per proporre delle nuove tecniche non abbiamo nuove molecole non abbiamo nuovi erbicidi ma abbiamo nuovi infestanti sempre più difficili e resistenti e quindi il compito è sempre più più complicato abbiamo visto come è importante la soia le quotazioni sono ai massimi quindi è una cultura di grande potenzialità e profittabilità rientra molto bene negli schemi della PAC come cultura da rinnovo come cultura azalto fissatrice e sostenibile e abbiamo una genetica Pioneer di grandissimo livello con delle varietà anche in filiera estremamente importanti quindi dobbiamo diserbare bene perché è la pratica fondamentale ovviamente dopo la varietà è una buona irrigazione che ci permette di avere un'ottima produzione e qui ci sta benissimo l'approccio Corteva Giulio parlava della genetica quindi continua evoluzione non abbiamo toccato tutto il percorso agronomico che fa Pioneer in campo con il Vigis con l'analisi dei terreni con la valutazione della nutrizionalità della cultura e il terzo anello che Corteva va a coprire è il diserbo quindi il controllo delle infestanti che sono cose importanti che come vedevamo possono compromettere il potenziale produttivo della cultura e quindi vediamo questi nuovi percorsi tecnici come dicevo prima non ci sono nuove molecole non ci sono nuovi erbicidi il mercato della soia è un mercato abbastanza statico quindi abbiamo degli erbicidi che sono presenti nel mercato da anni ma dobbiamo trovare dei modi nuovi per utilizzarli al meglio e Corteva qui ha portato il suo valore aggiunto abbiamo rivisto alcuni prodotti abbiamo cambiato alcuni formulati abbiamo rivisto i programmi abbiamo rivisto le linee tecniche lavoriamo sui bagnanti sui volumi d'acqua sugli ugelli per arrivare a dei nuovi percorsi tecnici che ci diano campi di soia puliti campi di soia puliti vuol dire campi di soia produttivi per arrivare a ottenere quel potenziale che prima Giulio sottolineava come ci siamo detti se non diserbiamo andiamo a perdere produzione Elisa parlava di 90% io mi limitavo a meno 30% ma sappiamo benissimo che con presenza di Amaranto forse arriviamo veramente a perdere completamente la cultura e quindi è fondamentale diserbare bene è un fattore chiave ricordiamocelo sempre a noi stessi e anche quando parliamo al nostro interlocutore quindi all'opinione pubblica se non diserbiamo non si può produrre non si può avere cibo ovviamente il diserbo che vi andiamo a proporre è sempre un diserbo nel massimo rispetto dell'operatore del consumatore e dell'ambiente quindi dobbiamo anche considerare questo aspetto di diserbare bene ma rispettando l'ambiente e l'utilizzatore qui vi faccio solo un esempio qui siamo a Riano Ferrares una prova del 2020 vedete a sinistra il testimone qui c'è un po' di Abutilum Cencio Molle che ha completamente annullato cancellato la soia e questa è una specie C3 quindi non è una Ferrari che dico prima questa è una una vettura a velocità normale e vedete com'era ridotto il testimone e vedete a destra invece in questo caso Tuareg New questo nuovo formulato che Cortè va lanciato tre anni fa siamo già alla terza campagna quindi abbiamo rivisto il formulato a base di Mazamox praticamente oggi è il migliore in Mazamox sul mercato e vedete la grande efficacia e anche la grande selettività una bellissima soia densa che copre bene la fila in grande vigore vegetativo e vedete la pulizia e la completa assenza di Abutilum da questa parcella non è semplice vedere in giro una soia senza Abutilum al giorno d'oggi vedere i campi di soia puliti oggi non è così banale Corteva si presenta con un portafoglio completo abbiamo un portafoglio per il controllo degli infestanti sia di pre che di post per risolvere tutte le problematiche di infestanti nella soia abbiamo l'abbinata di pre come avete visto nel video di Alcans e Mesozyn che sicuramente oggi è direi fondamentale se qualche anno fa si faceva solo post poi si è cominciato a fare trattamenti di preemergenza solo in alcuni casi oggi il consiglio di Corteva è di trattare sempre in preemergenza sempre e comunque dobbiamo partire puliti dobbiamo condizionare immediatamente le infestanti altrimenti in post non ce la facciamo è fondamentale con dei giavoni o degli amaranti come abbiamo visto prima nella presentazione precedente moltissimi sono gli areali con amaranti resistenti non ci possiamo permettere il lusso di perdere di non condizionare le infestanti dall'inizio e arrivare poi a diservare con infestanti troppo grandi soprattutto l'amaranto perché non avremo più le armi vedete poi in post parliamo di Exocet che è il nostro graminicida in due taglie da litro e da 5 litri Tuareg New questo nuovo formulato che andremo a vedere un po' meglio che ha un po' cambiato il diserbo della soia qui la novità è la taglia da litro avevamo solo i 5 litri oggi abbiamo che la taglia per gli appezzamenti più piccoli quindi questo è molto importante per le aziende che si trovano in areali dove non ci sono grandi aziende agricole o grandi appeziamenti sono molto frazionati soprattutto nelle aree più urbane e ovviamente sempre il bagnante anche qui è molto importante l'utilizzo del bagnante di Codaside perché massimizza l'efficacia del graminicida Exocet e inoltre è un bagnante antideriva quindi riduciamo lo spostamento del diserbo nelle culture vicine o nelle aree vicine quindi miglioriamo l'efficacia e riduciamo l'impatto ambientale quindi direi meglio di così si muore vediamo adesso le varie linee di diserbo partiamo dal pre che come ho detto è fondamentale oggi non ci si può esimere per arrivare poi al post emergenza che invece è più più classico in pre emergenza il consiglio di Corteva è oggi di farlo sempre e comunque per non saperne leggere né scrivere perché gli infestati cambiano e cambiano velocemente magari l'anno scorso sono andato bene a diserbare non ho avuto problemi dico vabbè faccio solo post non me la rischierei con le quotazioni di oggi con l'imperativo di produrre tanto ebbene partiamo con l'assicurazione mettiamo l'assicurazione l'assicurazione è il diserbo di pre emergenza e come lo si fa? lo si fa con due prodotti che sono di ampio spettro grande efficacia e ottima selettività come vedremo dopo come Alcance e Mesozin Alcance che controlla sia graminacee che foglie larghe quindi tutta la parte delle graminacee parliamo di Giavone parliamo di Sorgheta Digitaria Setaria Panicum e una buona parte delle foglie larghe quindi un diserbo d'ampio spettro sappiamo che è un diserbo con doppia capsula quindi molto selettivo non è volatile e quindi e inoltre ha un'ottima attività di ricarica ovvero sia se abbiamo un periodo siccitoso e poi viene a piovere Alcancee si può riattivare lo abbiniamo con un basso dosaggio di Mesozin quindi di Metribuzin che è fondamentale per andare a rinforzare Alcancee su due infestanti chiave gli Amaranti che dicevamo prima e la Califa che è un infestante in diffusione soprattutto negli areali del nord-est ultimamente la nostra attività di campo di sperimentazione ci ha portato nuovi risultati comunque un aggiornamento delle nostre linee tecniche e molte volte andiamo ad aggiungere un graminicida che è noto essere il principe del mais ma che ce lo siamo portati su soia che è l'Smetolaclor a dose piena che ci aiuta in questo caso ancora una volta sulla Califa Amaranto perché questi infestanti non scherzano le abbiamo viste sono infestanti che possono arrivare alti anche due o tre metri quindi andare a competere anche con il mais ed inoltre con un'altra infestante che si sta diffondendo che sono le ciperacee quindi l'aggiunta di un litro di S-metolaclor ci può aiutare molto ad innalzare la soia di controllo su questi infestanti temibili quindi partiamo pulite con questa triplice l'ho chiamata triplice perché sono tre prodotti che andiamo a mettere insieme per avere lo spettro d'azione più ampio mantenendo sempre una grandissima selettività e qui poi vi ho riportato un po' lo spettro d'azione quindi Giavone Sorghetta Digitaria Setaria Panicum Solanum poi abbiamo l'Amaranto Chienopodio Psantium un po' tutte insomma la Butilon le poligonacee la datura Galinsoga ad esempio dove si fanno molte liquamazioni è molto diffusa Poligoni Persicari Acalifa e in ultima ho messo anche le ciperacee che sono in diffusione quindi un ampio spettro Alcans e Mesozynx e poi andiamo a aggiungere un po' di S-Metorocro direi che facciamo una triplice un disarbo tipo di emergenza ottimo che va a condizionare molto le infestanti anche se dovessi avere una stagione difficile cioè andamento siccitoso sicuramente un trattamento di questo tipo mi mette comunque al riparo da un'infestazione troppo elevata che poi dovrò controllare in posto comunque va fatto certo che se la stagione è favorevole avrò un grande risultato se la stagione non sarà favorevole sarà minore ma comunque un po' di azione me la porto a casa e quindi è importante perché sulla soglia la coperta è corta e non possiamo scherzare non possiamo sbagliare e qui ve l'ho un po' riassunto quindi Alcans e Mesozynx aggiunta di S-Metorocro e vado a controllare tutte queste infestanti dalle graminacee alle foglie larghe a califa a maranto e ciperacee quindi questa è diciamo così la ricetta per fare un ottimo pre e partire bene e qui vediamo un esempio qui siamo a Mogliano Veneto l'anno scorso luglio 2021 accoppiata Alcans e Mesozynx in questo caso era a maranto probabilmente Palmeri anche se non solo un botanico ma Elisa mi confortava nel riconoscimento vedete la parcella che sta più avanti è stata trattata in pre-emergenza Alcans e Mesozynx qui stagione molto fortunata è piovuto qualche giorno dopo il trattamento e vedete la parcella questo è a maranto resistente agli ALS quindi alle solfoniuree quindi ai diserbi di post e in pre abbiamo avuto un ottimo contenimento non è che voglio dire che basta il pre siamo a posto ma in questo caso è per farvi vedere la grande attività e selettività del prodotto avevamo anche altre parcelle con altri prodotti non corteva in pre e c'è stato qualche problema di selettività perché c'era stata una grande piovosità pochi giorni dopo la semina e il trattamento di pre-emergenza quindi è importante avere i diserbi giusti nel momento giusto e Alcans e Mesozynx lo sono sicuramente andiamo al post il post-emergenza quello che siamo più abituati a fare nella soia si va sempre il post-emergenza si è sempre fatto un prodotto storico come Tuareg quindi Masamox che corteva innovato con Tuareg New perché innovato perché è un nuovo formulato contiene all'interno un bagnante e oggi Tuareg New è molto più efficace rispetto al vecchio Tuareg è molto più veloce ma incredibile abbiamo mantenuto comunque sempre una grande selettività perché sapete aumento l'efficacia magari peggiora la selettività no qui siamo riusciti a fare proprio a tirare fuori il coniglio dal cilindro più efficacia e mantenendo la stessa selettività Tuareg New è sicuramente il prodotto per quasi tutte le foglie larghe della soia da amaranto chenopodio amaranto sensibile ovviamente chenopodio solanum datura santium eccetera e anche una buona attività graminicida se interveniamo presto abbiamo graminacee piccole in accestimento Tuareg New ha un'ottima attività per quanto riguarda le graminacee parliamo di Exocet a base di cletodim è un graminicida che chiamiamo dim cosa vuol dire che è un po' diverso dai graminicidi che eravamo abituati ad usare fino a qualche anno fa ed è molto efficace soprattutto non dico sulle infestanti resistenti alla case ma su quelle infestanti tipo giavone un po' complicate dove oggi i graminicidi attuali fanno un po' fatica Exocet si dimostra essere molto efficace in questo caso abbiamo un po' rivisto i dosaggi lavoriamo sempre sopra il litro 1-1,25 e assolutamente obbligatorio il bagnante sempre Codaside ci dà più efficacia ci mantiene una buona selettività riduce la deriva torni indietro Tuareg New fate sempre i due litri se volete una parcella una soia pulita con un'ottima efficacia fate sempre i due litri c'è anche 1,6 in etichetta ma sicuramente il meglio di sé lo dà a dose piena quindi sempre i due litri qui ve l'ho già detto quindi Tuareg New è un prodotto che rispetto al vecchio Tuareg è molto più efficace soprattutto su Abutilon c'è una grandissima differenza vedrete in giro se vedrete dei campi di soia che non hanno Abutilon è sicuramente trattato con Tuareg New e si vede la differenza con altri formulati basi Masamox molto più efficace che su Kenopodio su Giavoni quando sono piccoli ovviamente e anche su altri infestanti tipo Solanu e anche Poligonacee abbiamo visto una maggiore velocità sappiamo che il diserbo è importante controllare le infestanti ma è anche fondamentale controllarle velocemente le dobbiamo controllare uccidere immediatamente altrimenti fanno danno e altra cosa importante è molto selettivo Tuareg New si può miscelare ad altri foglie larghe gramminicidi parliamo di primo parliamo anche di secondo raccolto è sempre molto selettivo soprattutto il secondo raccolto dove non dobbiamo perdere giorni di crescita perché abbiamo pochi giorni e dobbiamo andare a raccogliere è fondamentale utilizzare un prodotto come Tuareg New ricordo che non ha intervallo di sicurezza il vecchio intervallo di carenza e quindi è ideale anche nei trattamenti di secondo raccolto vediamo qui qualche risultato in campo qui è sempre Ariano Ferrarese qui era il 2020 presenza di abutilo il riferimento vedete non aveva controllato in maniera perfetta questa infestante temibile della soia ma se vedete Tuareg New la parcella era perfetta quindi Tuareg New ancora una volta qui vediamo i risultati in campo ho una grandissima attività su abutilo e la parcella era pulita e qui sì che possiamo fare i quintali qui sì che possiamo produrre veniamo ad Exocet sempre abbinato a Codacide sempre a dosaggi superiori al litro anche qui vediamo una graminicida di grandissima efficacia quindi si pone tra i graminicidi più efficaci su Giavone e Sorghetta ed ha anche un'ottima attività su Digitaria Setaria e anche Panicum che è in diffusione assolutamente sempre con il bagnante è un graminicida che si presta bene ad essere miscibile sappiamo che non tutti lo possono essere Exocet si può miscelare a Tuareg New e ad altri formulati quindi possiamo fare anche il passaggio unico possiamo mettere il graminicida Exocet Tuareg New e altri prodotti di cui abbiamo necessità senza perdere efficacia senza danneggiare la selettività quindi questo è molto importante vi ricordo anche che Exocet è molto efficace sulle rinascite di cereali quando facciamo soia in secondo raccolto dopo frumento o dopo orzo dobbiamo controllare orzo e frumento e non è per niente facile questo penso che lo sappiamo tutti Exocet è sicuramente il miglior graminicida per controllare frumento e orzo quando vado a fare soia in secondo raccolto e qui vediamo una prova del 2021 qui siamo a Isola della Scala una prova particolare perché l'abbiamo fatto insieme a Elisa dopo Risaia quindi volevamo i giavoni cattivi quelli carnivori vedete il testimone in basso a sinistra c'è solo giavone non c'è più la soia il riferimento che assomiglia molto al testimone e quindi il giavone veramente non veniva controllato e vedete invece a destra nella fotografia più grande Exocet qui era fatto a 1,25 quindi un dosaggio importante un dosaggio alto sempre col bagnante e la parcella era perfetta quindi anche in questi casi con giavoni difficili elevate densità di infestanti Exocet si pone al miglior livello di controllo Alcune strategie le abbiamo già viste nel video ve le ho già accennate ma se vogliamo entrare proprio nel pratico devo diserbare in post sono in primo raccolto non ho infestanti resistenti non ho a Maranto non ho a Califa ho un po' di graminace piccole se ho in accestimento beh facciamo tuare che mio a 2 litri dose piena posso mettere un po' di Tiffensulfur se ho paura di un po' di Kenopodio e io ho fatto il mio diserbo di post sempre dopo un pre che consigliamo sempre se invece ho paura perché so che c'è dell'Amaranto cattivo che mi sospettisce ho della Califa ho anche una buona presenza di Kenopodio perché c'è sempre tradizione beh tuare che mio Tiffensulfur aggiungiamo un po' di Bentazone il Bentazone mi aiuta su Amaranto e Califa e sappiamo che il Bentazone è molto selettivo su soia è il prodotto più selettivo quindi posso fare la triplice con un'ottima efficacia mantenendo sempre un'ottima selettività se invece ho graminace più sviluppate e quindi Tuareg New magari potrebbe non essere sufficiente beh aggiungo il graminicida faccio un litro di Exocet hai due litri di Tuareg New posso mettere un po' di Tiffensulfur sempre per il mio Kenopodio faccio una triplice dopo il mio pre e porto a casa il mio campo pulito mantenendo sempre grande efficacia e selettività ultimo caso più complicato voglio fare tutti in un colpo solo voglio fare i cantieri riuniti ho poco tempo sono in secondo raccolto non posso tornare a ribattere dopo devo intervenire immediatamente faccio tutto insieme ok forse non è la soluzione migliore per avere la super efficacia ma se voglio avere ottima efficacia mantenendo una buona selettività posso fare anche i quattro prodotti insieme Tuareg New Exocet Bentazone Tiffensulfur questi prodotti ci permettono di fare questo grande miscelone passaggio unico e controllare tutto in un unico passaggio ovviamente sempre con the side quando uso Exocet quindi questo è molto importante nel primo raccolto ma soprattutto se faccio il secondo anche qui riassumendo quindi Tuareg New il prodotto migliore per le per abutino farinello amaranto poligonacea erba morella quindi tra gli Masamox Tuareg New è quello più performante il bagnante che c'è all'interno fa veramente cambiare volto a questo erbicida sulle graminacee è Exocet che ha l'attività migliore Giavone Sorghetta e vi ricordo le rinascite di cereali così importanti nei secondi raccolti se invece devo andare in post amaranto resistente a califa utilizziamo Bentazone ad esempio dopo un pre abbiamo fatto anche esperienza ad esempio magari non ho fatto il pre ho una grande presenza di amaranto resistente magari è molto grande Tuareg New mantiene comunque un'efficacia residua quindi va sempre utilizzato anche perché posso avere altri infestanti posso anche miscelare Bentazone e Bifenox poi magari i dosaggi andranno rifiniti ma questa triplice mi può aiutare a pulirmi dall'amaranto resistente quindi questa è una nuova esperienza che abbiamo fatto nel 2021 e ci sentiamo di proporla perché può essere una buona soluzione quando ho l'amaranto che veramente sta diciamo così mangiando la soia concludo quindi che nel diserbo della soia che è fattore chiave per la produzione la parola d'ordine è fare due interventi pre e poi fare il post farli sempre e comunque perché in questo modo ho un'assicurazione abbastanza elevata abbastanza garantita di portarmi a casa una buona produzione quindi un campo pulito è una soia produttiva e io qui mi fermo e torno alla parola a Lorenzo Bene grazie grazie Mirko direi che anche in questo caso abbiamo visto le strategie principali di corteva per il controllo delle infestanti sempre che in post niente da da aggiungere chiaramente a quanto detto da Mirko sono però arrivate nel frattempo diverse domande dai nostri spettatori online quindi io direi che gli ultimi dieci minuti circa li possiamo dedicare a provare a rispondere a queste domande ecco vi chiedo siccome sono parecchie vi chiedo di essere più sintetici possibile nella risposta in modo che possiamo leggerne più possibile allora vediamo la prima ecco sì questa diciamo è relativa alla fertilizzazione quindi credo che Giulio sia tu la persona adatta a rispondere quante unità di potassio sono necessarie per ettaro per la soia e come è meglio gestire questa tipologia di concimazione quindi potassio sì allora per quanto riguarda il potassio soia mediamente ha bisogno di un centinaio di unità naturalmente facciamo conto che ce ne sia una parte residua nel terreno per cui già 50 60 unità ad ettaro nel caso dove siamo siamo nel dubbio che l'elemento sia in quantità sufficiente si può considerare una buona una buona concimazione naturalmente va fatta in presemina generalmente si fa a spaglio con prodotti dedicati e questa potrebbe essere la soluzione più appropriata per quanto può essere possibili carenze di potassio chiaro se poi si hanno a disposizione le analisi del suolo meglio che andiamo a colpo sicuro che andiamo a colpo sicuro chiaro ecco vediamo una domanda invece che direi che ve la potete dividere tra Elisa e tra Mirko poi insomma decidete voi allora questo dice se si evita la lavorazione del suolo i semi delle infestanti rimangono in superficie e quindi durano di meno no i semi rimangono in superficie e quindi hanno possibilità di germinare come dicevo prima le lavorazioni del suolo sono uno strumento ottimo per rinnovare la banca del seme e le minime lavorazioni si sa che invece sono quelle che possono in qualche maniera a volte aiutare la resistenza perché i semi che germinano e producono piante sono sempre quelli quindi è meglio rinnovare ok altra domanda sempre in questo ambito qui la distanza nell'interfila influenza il controllo degli infestanti se si c'è un'interfila più adatta o meno allora è chiaro che se l'interfila è più stretto la pianta è favorita la cultura è favorita però come diceva prima Mirko ci siamo troviamo di fronte delle Ferrari quindi delle piante che sono veramente competitive e l'interfila soprattutto nelle prime fasi della cultura quindi con la cultura ancora piccola non possono più di tanto andare a incidere quindi non me la sento di dire c'è un'interfila come dire favorito o consigliato per le infestanti è una questione di competizione di disponibilità di acqua di luce quindi mi fermo qui ok sempre per Giulio secondo me ci sono varietà di soia più adatte alla semina su sodo in primo raccolto? vanno considerate le varietà di soia che possono avere uno sviluppo di emergenza più veloce e quindi si possono considerare in un certo senso più favorite se penso al nostro portafoglio sicuramente mi vengono in mente la LM10 che abbiamo già citato ma anche la A02 e anche T45 è un buon vigor di partenza un buon sviluppo già dalle prime fasi che sono caratteri essenziali per semine su sodo o semisodo chiaro Mirko adesso ne ho una per te in realtà campo con forte presenza di sorghietta d'Arizona come faccio a controllarla se voglio fare soia dopo fulmento tenero? beh oddio qui ovviamente per quanto riguarda il controllo della sorghietta d'Arizona sicuramente la soluzione è utilizzare Exocet come craminicida in post emergenza ovviamente bisogna intervenire nel momento giusto sicuramente bagnare bene quindi utilizzare gli ugelli giusti un ottimo volume di bagnatura utilizzare utilizzare il bagnante bisogna andare a dosaggi elevati di Exocet perché ovviamente quando abbiamo sorghietta sviluppata dobbiamo andare 1,25 anche 1,5 litri ettaro e questa è la modalità lo userei da solo non mi scela ad altri prodotti perché se il focus è sorghietta è meglio che l'erbicida venga utilizzato solo per quello scopo lì quando il prodotto non è miscelato ovviamente stiamo massimizzando l'efficacia quindi direi che questa potrebbe essere la soluzione migliore ok chiarissimo vediamo un po' questa anche dopo una falsa semina che erbicida è meglio usare? allora questo non abbiamo parlato mi sembra un ottimo punto cioè nella gestione degli infestanti non c'è solo il pre del post ma mi sembra un'ottima modalità anche fare il presemio i famosi letti di semina falsa semina emergono gli infestanti e vado con glifosate ormonici auxinici e questo mi permette il controllo ad esempio di infestanti può essere l'equiseto che non abbiamo toccato quindi faccio del 24D chiaro poi devo adottare un certo intervallo tra l'intervento e la semina della soia perché sappiamo essere sensibile e gli ormonici avere un tempo di chiamiamolo sicurezza variabile quindi dobbiamo gestire questa cosa però è fondamentale poi sicuramente vado a fare il mio percorso di pre e post e direi abbastanza indipendente da quello che ho fatto prima perché probabilmente avrò fatto o glifosate o ormonici o auxinosimili e questi non vanno a pregiudicare quindi la linea alcance e mesos oppure poi tuaregnio però sicuramente è un'ottima pratica perché vado ad abbassare e a depotenziare la quantità di infestanti e vado a fare alcuni infestanti che probabilmente dopo farei fatica un esempio su tutti è l'equiseto chiaro una domanda per Antonio Papaleo invece vediamo se riusciamo ad essere sintetici ci chiedono chiarimenti sulle aree EFA nello scenario futuro post diciamo nella nuova PAC post 2023 cosa possiamo aggiungere come accennavo prima le aree EFA sono state introdotte con il greening come obbligo questo obbligo del greening il greening è stato ripreso nella condizionalità di base c'è una BCA che è la BCA la BCA8 che prevede appunto che le aziende con superficie asseminativo maggiore dei 10 ettari devono destinare una percentuale minima del 4% ad aree non produttive poi la BCA prevede anche altre cose quindi la gestione di queste aree non produttive poi la potatura degli elementi naturaliformi per favorire diciamo il rifugio degli uccelli e così via quindi comunque sia nell'ambito della tutela della biodiversità comunque sia le aree EFA traslate dal greening stanno dentro alla BCA un obbligo è un obbligo di base per tutti gli agricoltori bene direi che abbiamo gli ultimi due minuti proprio per l'ultimissima domanda e Giulio credo che tocchi a te perché un agricoltore che ci segue dalla provincia di Padova ci chiede qual è il gruppo ideale per il suo areale sicuramente per un areale molto avvocato alla Soia zona di Padova e sicuramente consiglierei un gruppo 1 un gruppo 1 o un gruppo 1- a seconda che parliamo di una zona un terreno molto fertile o un terreno un po' meno fertile quindi T45 come gruppo 1 e un A20 un novità di quest'anno o l'A02 come gruppo 1- ok un'altra cosa ultimissima proprio vediamo di chiudere sul discorso del sostegno accoppiato in effetti è arrivata anche la domanda Antonio se possiamo aggiungere qualcosa magari proprio relativamente sì relativamente alla Soia il nuovo regime dei pagamenti diretti prevede all'ambito di quel 15% da destinare a sostegno accoppiato a superficie o per unità di bestiame c'è un 2% proprio per cercare di sostenere il settore diciamo agricolo interno nella produzione di proteine quindi la Soia e altre leguminose ci sarà un sostegno accoppiato ci sarà un sostegno accoppiato bene allora il tempo a nostra disposizione è veramente concluso io ringrazio tantissimo i nostri ospiti Antonio Papaleo Elisa Ammas Canzoni Giulio Loregianne e Mirko Guarise do appuntamento a tutti voi al prossimo sì al prossimo episodio diciamo così dell'Accademia dei Seminativi e auguro a tutti buona serata e grazie per averci seguito grazie per averci seguito